Ciao ragazze, allora in questo nuovo video vorrei mostrarvi tutto ciò che ho creato nel periodo che va da novembre a dicembre in Soutage perché mi ero fissata e in più qualcosina che ho creato nelle ultime due settimane all'incirca allora con che cosa cominciamo? abbiate pietà di me perché sono i primi lavori che io ho fatto in Soutage chiaramente io non sono un'esperta ma sono ancora molto principiante da quel punto di vista ecco allora vi faccio vedere prima questi qua ecco qua vediamo se metti a fuoco molto semplici, io ho fatto soltanto lavori semplici con il Soutage, niente di troppo complicato questa è una goccia 13x18 e ho utilizzato un filo di strass con un cipollotto 3x4, cipollotti 6x4 e queste due piattine color avorio carini, niente di troppo elaborato perché vi ripeto i miei primi lavori infatti non sono neanche perfetti c'è ancora da ritagliare qui poi per il retro io utilizzo il pannolenci e ci do di mano con l'accendino per bruciare tutti i peletti ma faccio sempre danno insomma migliorerò poi ho creato questo paio di orecchini qua sempre in Soutage con due piattine nere opache rocai 11.0 rivoli da 16 mm in resina e rivestito sempre con il pannolenci ecco diciamo che qua non ho fatto molto danno per quanto riguarda l'accendino un po' qui forse insomma una chiavica in pratica qua il danno l'ho fatto grosso ecco qui allora ho creato questo paio di orecchini con tre piattine due bianche e una dorata con questi mezzi cristalli da 4 mm e questo rivoli stupendo e qua ho fatto un danno allucinante perché sono andata lì con l'accendino che volevo bruciare i peletti alla fine ho bruciato tutta la creazione infatti la smonterò e anche la piattina quasi annerita un attimo pazienza dai piano si impara ecco diciamo questo mi è uscito un po' meglio anche se i retri sono sempre un cruccio ecco qua ho utilizzato tre piattine due nere e una argento e due perle da 6 mm è un rivoli da 14 mm e questo rivoli è molto carino perché è viola come lo vedete però alla luce diventa bianco è bellissimo proprio è proprio bello diciamo che questo è uno dei lavori in sutash che mi è uscito un po' meglio a parte il retro che non è perfetto però dai insomma migliorerò andando avanti con questa tecnica anche perché l'ho semi abbandonata ho fatto ieri qualcosina che vi farò vedere ecco qua qua abbiamo semplicissimo una goccia mi sa che non è 18x13 è più grande però non so di che misura è e ho utilizzato dei cipollotti 3x4 tra l'altro queste piattine sono le prime piattine che ho acquistato e sono veramente impossibili da lavorare perché sono moscissime infatti non so neanche come sono riuscita a lavorarle si vede comunque che non sono perfette il retro in nero con la similpelle ecco niente di che comunque poi ho realizzato questo paio di orecchini queste piattine invece sono di ottima qualità perché sono abbastanza rigide quindi mantengono la la loro forma insomma sono di ottima qualità ho utilizzato anche qui un cabochon a forma di goccia con delle perle da 4 mm e poi ho fatto un contorno di rocaille 8x0 in questa fase qua a differenza di quella iniziale ho iniziato ad attaccare il cabochon al pannolenci e anche le piattine purtroppo io non sono molto brava col soutage quindi utilizzo la colla e faccio giusto qualche punto di qua e di là perché altrimenti mi segna tutto il lavoro e non mi piace affatto e quindi verrò criticata ma fa niente e dietro ho fatto il retro con il pannolenci nero ecco diciamo questo è uscito un po' meglio però carino dai a parte che non io purtroppo col soutage non so utilizzare ago e filo anche qui con il soutage utilizzo il filo di nylon perché a me il filo da tessitura mi riesce difficile utilizzarlo comunque andiamo avanti vediamo un po' che cosa ho fatto ancora in soutage ah avevo fatto questi qua i sherry di Erika Erika Bijou Eri Bijou bellini queste piattine sono di ottima qualità a parte questa qua gialla questa qua all'inizio è morbidissima infatti non sono riuscita a incastonare bene i rivoli all'interno almeno per questo questo qua diciamo è uscito abbastanza bene e poi ho fatto il retro sempre con il pannolenci utilizzo il pannolenci perché vedo che comunque si adatta molto meglio alle varie gobbette che si formano sul retro per cui preferisco utilizzare il pannolenci anziché la similpelle ecco e vi faccio vedere una spilla che ho fatto in soutage sempre ecco qua questo qua è un modulino che ho copiato da Arianna ecco non è per niente perfetto però era il mio uno dei come tutti uno dei primi lavori in soutage soltanto facendo pratica si può migliorare io purtroppo l'ho abbandonata da circa due mesi il soutage per cui infatti ieri ho fatto giusto qualcosina orecchini al lobo che vi farò vedere in soutage e spero di essere migliorata insomma vi farò vedere poi ho fatto anche questo qui semplice semplice sempre con queste questi cabochon a forma di goccia mi sa che erano 13x10 piccoline proprio carucci sempre sulla stessa ascia di quelli precedenti poi ho fatto questi paia di orecchini sempre con i cabochon a forma di goccia e due perle da 6 mm e questi tre queste tre piattine due nere una bordeaux perché è una camicia di questo colore quindi mi sono voluta fare gli orecchini in abbinamento il retro l'ho fatto rosso ecco qua carini poi sono leggerissimi poi ho fatto un'altra spilla ecco qua con un cabochon 13x18 perle da 6 mm e questi cipollotti 3x4 ecco qua la spilletta con il retro un pannolenci poi questo qua fatto con un rivoli da 14 mm tre piattine sui toni del grigio e questi cipollotti 3x4 ecco qua poi sempre in suitage siccome ho una camicia di questo colore ho voluto farmi gli orecchini con il perno ecco qua qui come si vede ho fatto danno con l'accendino ma sono proprio una criminale con l'accendino io intanto ecco qua carini semplici niente di particolare poi sempre da Arianna da un tutorial di Arianna ho fatto questi orecchini qua con un mezzo cristallo da 6 mm questo qua centrale dopodiché abbiamo bicono da 4 mm questi e ho messo queste tre piattine come è questa allora questa qua al 100 è azzurrina con i fili argentati e queste altre due invece sono tipo jeans bellissimi avevo però un po' di orecchini che volevo farvi vedere sempre in sottace di cui sono molto orgogliosa diciamo che questi penso mi siano usciti bene poi ditemi voi a me piace tanto ed è questo qui allora ho utilizzato un rivoli da 14 mm e queste tre piattine che penso che insieme siano spettacolari questo color verde verdone stupendi ho messo un filo di rocaille 11.0 e questa goccina questo orecchino mi piace tanto certo qua è da la colla maledetta colla però va bene lo aggiustiamo questo mi piace tanto ah qui ho messo un cipollotto 6x4 mm ecco qua poi il sottace che ho fatto ieri perché una cliente mi ha chiesto degli orecchini al lobo ho fatto questi qui molto semplici bellini mi piacciono tanto allora ho utilizzato queste tre piattine rosa rosa con fili dorati e questa qui bordeaux ho messo un filo di rocaille 11.0 rivoli da 14 mm e poi ho attaccato sul retro il pannolenci però oltre ad averlo attaccato questa volta io ci ho anche fatto qualche punto proprio per ancorarlo bene in ogni in ogni suo punto ecco e questi mi piacciono tanto ecco c'è ancora da rifinire un attimino però infatti uguale a questo ho fatto anche questo che devo ancora ritagliare il pannolenci sul retro questo e anche qui il retro io l'ho appuntato con il filo di nylon da tessitura il mio che ho utilizzato proprio per stare più tranquilla per far sì che il retro sia attaccato completamente al lavoro ecco per paura che magari si stacchi o che e poi ho fatto più che questo più che lavoro su tage ed è un embroidery ecco qua sempre per la mia cliente un paio di orecchini a perno ecco qua praticamente io cosa ho fatto qui ho incastonato normalmente rivoli da 14 mm e sul retro ho attaccato proprio con il filo il perno l'ho attaccato bene siccome poi a me non piace che si vedano si vedano tutti i fili ho attaccato il pannolenci sul retro l'ho attaccato con la colla e poi l'ho anche appuntato nei vari punti qui ho attaccato praticamente alle delica che si trovano qui sulla base ho fatto un punto in modo che resti ben saldo il lavoro ecco niente di particolare ecco molto semplici però mi piacciono tanto poi i miei orecchini elegance ecco qui fatto con le come si chiamano le cheops queste cheops che vi ho fatto vedere anche sul tutorial che si rovinano quindi altro che elegance qui comunque per quanto riguarda questo orecchino potrete trovare il tutorial sul mio canale e niente utilizzato rocaio 11.0 15.0 cipollotti 3x4 e questa goccina presa da perline gioielli e all'interno c'è un rivoli da 14 mm allora come ho detto anche nel video del tutorial di questo orecchino ho provato ad incastonare questo rivoli da 14 mm partendo da 7 cheops anziché 5 e devo dire che l'incastonatura viene perfetta il rivoli rimane molto più scoperto e sinceramente mi piace anche molto di più infatti avevo fatto un campione ma non so dove è finito sarà nelle mie scatoline ecco l'orecchino è carino vediamo se sono fuori fuoco però diciamo che tornassi indietro farei l'incastonatura partendo da 7 vabbè si può comunque fare smontare rifare vedere come esce il lavoro comunque l'importante è che voi lo sappiate che si può fare l'incastonatura anche partendo da 6 o da 7 cheops in modo da avere il rivoli più scoperto con questo tipo di incastonatura il rivoli rimane più coperto ma vi dà anche la possibilità di recuperare quei rivoli che magari sono un po' rovinati ecco qua poi la mia croce fatta con le gem duo gem duo mezzi cristalli da 4 mm cipollotti 3x4 e rocaille 11.0 di due colorazioni mi sembra che abbia utilizzato anche utilizzato anche le rocaille da 15.0 eccola qua molto bellina mi piace tanto nel tutorial io ho fatto il tutorial con queste colorazioni e devo dire che mi piace tanto solo che è successo io poi l'ho rifatta con il filo da tessitura e come vedete si è scasciato ecco perché io non mi fido mai dei fili da tessitura io non so eppure non l'ho mai messa l'ho tenuta sempre lì nel portagioie eppure come vedete devo andarla a rifare pazienza poi ho quasi finito allora la mea parure frose che mi piace tantissimo eccola qui allora fatto anche di questa trovate il tutorial sul mio canale allora ho realizzato questo modulino con le le diamo duo le super duo cipollotti 3x4 rocaille 11.0 e 15.0 belli mi piace da morire bello 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 ecco qua e poi l'ultima cosa che volevo farvi vedere è la linea che ho inventato diciamo inventato come l'ho chiamata gridines gridines non so neanche io come si dice praticamente ho fatto una linea ho deciso di fare questa linea al gusto del gelato per esempio questo qua vabbè sono partita da questo qui allora vi faccio vedere il primo che ho fatto il primo che ho fatto è stato questo ecco qua questo è stato il primo che ho fatto allora quando ho fatto questo orecchino mi è venuto in mente subito panna e fragola e quindi ho deciso di chiamare questo orecchino appunto panna e fragola pochissimi materiali ho utilizzato rocaille 11.0 di due colorazioni arco sparpuca i rivoli i bicono da 4 mm a queste goccine qua che ho acquistato dall'uvibiju molto belle queste goccine mi piacciono tanto poi l'orecchino è leggerissimo veramente leggero veramente mi piace tanto poi quando ho fatto questo orecchino ho detto ma ne voglio fare un altro sempre piccolino carino bellino e ho fatto questo qui ce la faccio ce la faccio ecco questo qui l'ho chiamato cioccolato panna e pistacchio ho utilizzato rocaille 11.0 le calibiz le cal come si chiamano calibiz forse si calibiz che hanno tre fori sono le non sapevo come utilizzare queste queste perline sinceramente ho provato ad inserirle in questo schemino è uscito abbastanza carino con questa goccia sempre acquistata dall'uvibiju bellino 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 mi piace tanto e poi l'ultimo e poi chiudo perché il video sta diventando noioso questo qui che io ho chiamato puffo allora anche qua ho utilizzato le calibiz i cipollotti due per uno no due per tre millimetri rocaille 11.0 di tre colorazioni e poi questa goccia acquistata da perline gioielli basta non vi annoio più niente ragazze allora ci vediamo al prossimo video però volevo ringraziare tutte tutti i complimenti che mi fate sotto i video i video tutorial e volevo ringraziare anche gli iscritti al mio canale vedo che pian pianino sta crescendo sempre di più e di questo sono molto contenta spero che continuate a seguirmi io cercherò di essere presente il più possibile e di regalarvi la mia fantasia le mie creazioni cercherò di accontentare un po' tutte le richieste e niente ragazze un bacione grandissimo a tutte e ci vediamo al prossimo video ciao ah un'ultima cosa se volete il tutorial di qualche modulino anche di questi qua molto semplici non c'è nessun problema chiedetemi quello che volete io appena possibile cercherò di fare di tutto ciao 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 ciao